Dopo l'esame di maturità superato brillantemente da privatista per Giacomo Ciriello, il giovane che il 26 febbraio del 2017 uccise il padre, 51 anni, con un colpo di fucile, ci sarebbe stato già un posto di lavoro ad attenderlo nel suo paese lucignano, ma al momento non c'è per lui la possibilità di cogliere questa occasione. Il tribunale infatti non ha accolto la richiesta avanzata dal legale Stefano Del Corto per permettergli di uscire dalla struttura di vigilanza dove si eseguono misure di sicurezza per il giudice, il 24enne sarebbe ancora socialmente pericoloso. Giacomo Ciriello era stato assolto nel febbraio 2018 perché risultato incapace di intendere di volere al momento dell'omicidio per un disturbo della personalità, ma con l'obbligo di scontare 10 anni di reclusione in una REMS. In seguito la sentenza era stata riformata, il giudice aveva stabilito che Giacomo Ciriello doveva scontare solo due anni di libertà vigilata con obbligo di dimora. Adesso il legale Del Ragazzo, che sta affrontando un percorso di riabilitazione e di reinserimento, sta valutando la possibilità di chiedere che venga eseguita una nuova perizia sul giovane.